Eccoci qua ragazzi, Auricchio Stravecchio, stagionatura molto particolare, stiamo parlando di un gennaio 2019 Eccolo qua, eccolo qua ragazzi, quello con la lacrima, è una meraviglia, è una meraviglia Diciamo che a gennaio Auricchio va il merito della formula, ancora oggi tuttora segreta Molto particolare Diciamo che per i formaggi dolci si utilizza un caglio dolce, pecorino o vino per i semi piccanti E un caglio di capretto per i formaggi piccanti, in questo caso abbiamo un caglio di capretto Ragazzi il profumo è inibriante, è uno di quelli là veramente molto forti, molto intensi E da Bubalus giustamente le nostre stagionatore, le nostre affinatori sono spettacolari Ciao ragazzi